Ben tornati a Radio Design in diretta dall'Istituto Italiano di Design di Perugia con il nostro format Wine Design. Benvenuti, benvenuti. Benvenuti da Eli, la speaker sommelier e da Nicola Palumbo, docente di web marketing dell'Istituto. Confermo. Confermo. E fin qui ci siamo. Oggi puntatissima, molto tecnica, molto interessante, di una tematica che è venuta fuori varie volte in queste nostre puntate nel mondo del vino, che è quello di saper comunicare il vino online, che è la nuova frontiera dell'e-commerce, di come gestire, di come anche creare quello che è una comunicazione del vino. Chi meglio poteva parlare di questo, se non il nostro grandissimo, il nostro famosissimo of the world, Nicola Palumbo. Volevo fare anche il rullo di tamburi, ma Nicola ha detto no. Sì, infatti no, non abbiamo neanche l'applicazione per farlo. Il rullo di tamburi. Nicola Palumbo è web, presentati senza che sono io fare. Sono emozionato, sono emozionato. Guardate com'è bello. Sono blu, oggi, in veste di puffo, pelato, aggiungerei. Sì, mi occupo di comunicazione online, ho gestito diversi brand, anche nel settore food and beverage, quindi anche cantine nel passato e anche birra. Anche nel futuro, esatto. Anche birra artigianale, quindi più o meno racconto un pochino questi tipi di prodotti da sei anni circa, sette. Sei navigato, insomma, all'interno di questo mondo. E io, appunto, dato che sono un po' stalker, sono andata a cercare notizie, perché non potevo chiederglielo in privato. No, sono andata a cercare notizie di Nicola sul web e ho trovato sulla sua biografia aiuto le aziende e le agenzie a capire come utilizzare il mondo digital. Quindi, subito parte la domanda, dato che è un po' il futuro della pubblicità, della comunicazione, che ha un po' superato quello che è il giornale, la pubblicità, insomma, visiva così. Un bel po', ormai. Comunicazione 2.0. E quindi parte la prima domanda, cioè, come oggi che peso ha riuscire a comunicare bene, perché c'è il modo e il modo di comunicare bene, contenuti sul web da parte dei brand, in questo caso del vino, insomma. Allora, diciamo, in generale, adesso sembro banale, è importantissimo, ovviamente, però... meno male che l'hai sottolineato. Aggiungo una cosa che è fondamentale. Spesso i brand, in generale, gli imprenditori, credono che il digital serva per sopperire delle loro mancanze. Mi spiego meglio. Se il tuo vino fa schifo, non è che fai una bellissima campagna online, hai un packaging stupendo e poi fra due anni tutti pensano che il tuo vino sia buono. Allora, per alcuni può funzionare anche tipo la Ceres e questi brand che... Adesso ci stiamo facendo nemici. Ecco, cioè, attenzione, ragazzi, bippate Ceres in qualche modo. Bip! Brand tipo bip, 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 bip. Alcuni brand ci riescono, ovviamente, ma perché hanno... sono stati in grado di fare un progetto di storytelling enorme dietro l'azienda e quant'altro. Però io mi riferisco molto ai piccoli brand, brand che nascono da poco, cantine che non hanno questo grandissimo margine. Il marketing funziona, ma deve esserci dietro un prodotto. Come prodotto intendo anche poi tutto quello che è il corollario che c'è attorno al prodotto. Quindi, per la cantina, un esempio classico può essere l'esperienza che vivi in cantina. Sì. Quindi, se tu sei bravissimo a raccontare online la cantina, poi il tipo viene, tu lo tratti male, la visita è noiosa, non gli fai vedere la cantina, lo tratti con sufficiente... C'è sufficiente... Poi puoi fare dei post stupendi, ma non ti aspettare che questa comunicazione online faccia poi faville in questo caso. Quindi, la comunicazione online serve da supporto a un prodotto che già c'è, che è fatto per bene, perché il marketing non è solo quello digitale, ma è tutto quello che c'è attorno al prodotto. Bisogna che ci sia anche coerenza tra la persona che c'è dietro un prodotto e quello che va a pubblicizzare, come dicevi tu, insomma. Esatto. Non è che me lo vendi bene e, come si dice, predicare bene e razzolare male, insomma. Esatto, infatti ci sono alcuni brand, io l'ho verificato proprio nella mia esperienza, che magari tu fai veramente poco online, fai un lavoro, diciamo, ridotto, però ovviamente con tutti i crismi, eccetera. Per un brand che lavora benissimo a livello di marketing, proprio esperienziale, come prodotto, come persone che ci sono dietro, in un caso hai un successo incredibile. Le stesse cose le fai per un brand invece che non ha la stessa cura per il marketing, diciamo, a tutto tondo, omnidirezionale e a quel punto non hai gli stessi risultati, perché tu non sei stato in grado di raccontare un brand, di creare quella magia che c'è attorno al prodotto. Quindi questa è, diciamo, sostanzialmente la mia risposta. E quindi, adesso mi viene spontanea la domanda, da un punto di vista di visibilità, quando un'azienda si affaccia al mondo digital e magari non è presente su tutti i canali, o lo trovi poco presente, questo può creare negatività dal punto di vista del consumatore, o è indifferente che ci sia o meno sul digital un'azienda? Adesso non ti faccio un esempio, perché ecco, sempre fai rispetto. Però, cioè, perciò ti chiedevo prima che peso ha oggi essere sul web? Fa differenza? Fa peso? Fa numero? Beh, diciamo che la prima cosa che una persona fa quando acquista un prodotto ormai è andare online e dire, vediamo un po' che cosa combinano, ci sono su Facebook, ormai dicono ci sono su Instagram, ma la pagina Instagram fa schifo. Quindi, presumibilmente, la presenza ci deve essere, deve essere scelta per bene, deve essere curata, ed è fondamentale, sì. Poi ci dipende dai prodotti. Se hai un target molto adulto, che ne so, più 60, in quel caso magari può risultare ancora inutile, però man mano che le generazioni vanno avanti, per dire ventenni, tu citi un brand, la prima cosa che fanno, non vanno sul sito, non vanno su Amazon, vanno su Instagram e vedono, vogliono vedere il prodotto. Quindi lo stesso accadrà per il vino, perché i ventenni di oggi, fra 15 anni, saranno, diciamo, nel momento giusto per l'acquisto di un vino di qualità. Ma ti dirò, sì, è molto abbassata l'età generazionale del consumo del vino consapevole, non l'alcolismo così. Sì, maggio 26, 27. Anche meno, anche meno, eh. Senti, a questo punto, da social media manager, quale è la strategia migliore da adottare se uno vuole pubblicizzare, sponsorizzare e comunicare bene il vino online? Allora, beh, intanto bisogna vedere che tipo di prodotto è. Adesso possiamo parlare in termini molto generici. Tendenzialmente ci sono, come dicono spesso i clienti, ma di che parliamo? Sì. Ci sono mille modi, mille cose. Per ogni tipo di brand si può scegliere una strategia, però tendenzialmente per quello che è il prodotto in questione è sicuramente una comunicazione che è di tipo emozionale, nel senso che giocare molto con le immagini, raccontare qual è appunto l'esperienza che si vive all'interno della cantina, l'esperienza che si vive nel prodotto. Sicuramente il testo, il copy, come lo chiamiamo nel marketing, è fondamentale, non bisogna mai sottovalutarlo. Ovviamente bisogna sempre in base al tipo di prodotto scegliere un tono di voce, come raccontare le cose. Ah sì, assolutamente. Comunicazione verbale e non verbale, anche quella è importante. Esatto. Poi ovviamente parlando sempre del digitale dipende. Se sei una cantina che basa il tuo prodotto, spesso ovviamente le cantine puntano molto su un linguaggio elegante, poetico, perché alla fine il vino rievoca un pochino tutto questo, è un'esperienza sensoriale, quindi si cerca di rievocare sempre con il testo qualcosa che riguardi questo. Però potreste appunto scegliere come brand di giocare magari sull'umorismo, che è una cosa che magari non fa nessuno, mantenendo sempre un prodotto alto, però differenziarti dagli altri. Quindi fa una differenza, riusci anche a differenziarsi oggi. Beh sì, perché spesso quello che si nota è che le cantine puntano tutte su, diciamo, sono un po' piatte come comunicazione, ma un po' ci sta anche, perché uscire poi troppo e andare appunto su posizioni estreme è difficile. Per esempio una birra artigianale rispetto al vino è più facile, perché viene percepito come un prodotto un pochino più fancy, più sbarazzino. Il vino purtroppo ha ragione, è ancora molto legato a un mondo un po' più raffinato, non è che ti metti con il calice a bere sulle scale, con la birra lo puoi fare, quindi ci sta. Quindi devi sempre ragionare su questo vino, dove viene bevuto, da chi viene bevuto, qual è il tuo target, quali sono le persone che vuoi raggiungere. Magari vuoi raggiungere un pubblico più giovane, allora potresti giocare con le etichette, potresti usare un linguaggio un po' più fresco, diciamo. E anche lì a questo punto scegliere un tono di voce che sia molto più leggero, che non vada molto nello specifico, nel tecnico come spesso accade, perché si pretende che i clienti sappiano cos'è un blend, cosa siano questi termini tecnici, in realtà non è così, perché il grande pubblico magari non è fissato come può essere un sommelier che conosce, che sa già che cosa vuol dire la fermentazione nella bottiglia, battonnage, tutte queste cose. Quindi attenzione a usare un gergo che sia aperto al tuo tipo di target. Quindi anche lì la strategia varia in base a queste cose. Al pubblico, certo. Deve comunque abbracciare un pubblico vasto che ha un'età che varia dai 20 fino ai 60, facciamo così, ecco. Esatto. E quindi avere un linguaggio adeguato per tutti. Poi sicuramente il linguaggio universale del vino probabilmente è il linguaggio dell'immagine, perché ovviamente il gusto, quindi il testo con l'immagine, ma anche il vino. Spesso per questioni di budget non si ricorre spesso al vino, però secondo me è un errore. Io adesso cito il più grande marketer della storia, un po' recente, Gary Vaynerchuk si chiama così, che è questo nome stranissimo, che era un tipo che lavorava per suo padre che aveva un'enoteca. Sì. E allora cosa fa lui negli anni 90? Dice ok, basta, adesso faccio ogni giorno un video su YouTube e racconto un vino. Ok. Lui è partito in questo modo, la sua enoteca, piccola enoteca di New York, poi non so quanti punti vendita ha aperto, lui ha cominciato a fatturare milioni di EO, di dollari, e oggi lui è il più grande consulente di marketing, insieme a altri 4-5 nel mondo, ed è partito dal vino, incredibile. E lui ci insegna, il grande Gary, che il linguaggio visuale è fondamentale, quindi soprattutto il racconto. Alle persone interessa essere educate, tra virgolette, su un prodotto. Quindi, per esempio, il consiglio che do sempre è, ovviamente poi qui ci sono sempre dei problemi che riguardano il fatto che magari un imprenditore non vuole comparire in video, non ci vuole mettere la faccia, questo è il più grande ostacolo per chi fa il nostro lavoro. Però è fondamentale, perché se tu fai un video dove racconti il tuo prodotto, se tu che l'hai prodotto, eccetera, funziona sempre tantissimo ed è dimostrato proprio. Quindi usare moltissimo le immagini, i video e il racconto fotografico e mettere in evidenza chi c'è dietro il prodotto, quindi le persone. Sì, perché da una dimensione reale del prodotto, se si riesce a vedere la persona, magari ecco l'accoppiata persona vino, donna vino, uomo vino, bene di più che vedere magari la bottiglia asettica. A livello proprio comunicativo, tralasciando gli aspetti magari di Instagram e di alcuni profili che vogliono, ecco, soltanto concentrarsi su quell'aspetto. Noi parliamo di comunicazione volta a un pubblico vasto. Quindi in quel caso abbiamo bisogno di avere un'immagine anche umana dietro la bottiglia. Esatto. Infatti magari si può anche notare proprio questa cosa nella comunicazione classica degli anni 90 o anche prima dove si dava, anche nella pubblicità televisiva, grandissimo risalto proprio al prodotto stesso rispetto alla persona. Con i social media il ruolo della persona è emerso in modo preponderante nella comunicazione e deve essere sfruttato al massimo. Quindi sfruttate l'immagine proprio di chi lavora. Le persone vogliono sapere chi c'è dietro al brand. Quindi l'immagine dell'uomo che lavora nella terra, sto banalizzando, l'enologo, chi è l'enologo, che vuole la sua storia, che cosa fa. Cioè raccontate tramite immagini, video, ogni cosa. C'è un sacco da raccontare. Ok? Poi ovviamente c'è Giuseppe Wine Experience che saluta, come anche altri. E poi ovviamente spesso la comunicazione, ricordatevelo, non deve passare solo dai social media ma dai canali proprietari, che vuol dire che magari i social media domani spariscono o cambiano o ne emergono di nuovi, come sta accadendo ora che siamo arrivati in una maturazione di questi canali. E quindi è fondamentale avere un canale diretto con le persone. Non a caso il podcast, questi nuovi tipi di comunicazione, quello che stiamo facendo anche noi, sono dei canali vostri proprietari. Cioè il video è tuo. Tu usi una piattaforma, ma il video comunque l'hai realizzato tu. Si trova lì e lo puoi caricare sul tuo sito web. Quindi io consiglio sempre di non dimenticarsi che i blog, o comunque, infatti avevamo qui l'altro giorno Giuseppe, giusto? Mi ricordo bene? No, Time in Time. Sì. Sì, sì. O lui che ha un blog. Ecco, il blog non è morto, ma anzi tornerà, tornerà sicuramente. Infatti dopo con Giuseppe parleremo del blog, perché lui ha aperto un blog e andiamo a capire quali sono le dinamiche che ti portano ad aprire un blog. Esatto. Senti, stavo appunto ragionando e pensando a quello che hai accennato poco fa, no? Di rendere umano la vendita di un prodotto. Pensavo a un famoso prodotto americano, una bibita, che l'ho letto un po' di tempo fa. All'inizio appunto lanciava questo prodotto, questo grande rosso, che vedevi, bottiglia, asettica, insomma, pubblicità così. Quando poi negli anni 90 ha cominciato ad inserire all'interno delle pubblicità la famiglia e c'è stato il boom economico di questo grande marchio. Quindi, come dire, la dimensione umana, relazionale, forse in America è arrivata prima, ma in America si sa che questo punto comunicativo sono un po' più avanti. Però è quello che noi vogliamo riuscire a, nel piccolo ginostro, di dire agli altri che mettiti e dici la faccia, tra virgolette, no? Infatti questa è una cosa che mi lanci la palla incredibilmente, perché tra i modi di comunicare il vino, come anche tutti i brand, i primi sono stati quelli che riguardano, diciamo, il turismo è stato il primo mondo a muoversi in questo senso con i block tour, ma oggi è una cosa che è evidente, che vediamo ovunque, è che l'influencer marketing la fa da padrone. Dicevo, le immagini, le persone, chi se non l'influencer marketing può fare questo, perché sostanzialmente i vini adesso si possono raccontare, come anche altri brand, tramite gli esseri umani, cioè gli influencer. Guarda, neanche farla apposta è la prossima domanda che avevo in scaletta, quella dell'importanza che ha oggi l'influencer marketing, no? Che oggi magari è un po' abusata questa parola di influencer, qualcuno si sente quasi, tra virgolette, offeso quando viene definito influencer. Allora io ho deciso di chiamare l'inbroker, visto che non vi piace influencer. I broker? I broker, cioè interpreti, no? Tra il produttore e il consumatore. Non è proprio giusto, vabbè, ti piace. Premio Pulitzer. Premio Pulitzer per questo. E quindi ecco, mi chiedevo, quanto, a parte comunque i numeri parlano, nel senso che molte aziende stanno investendo su questi influencer marketing, sul concetto di influencer marketing, ed è in crescita. Quanto è importante, a tuo avviso, dal punto di vista di manageriale, della comunicazione, che un brand si affidi a un influencer oggi? Cioè, l'influencer può avere effettivamente, creare una lead generation di consumazione, di fidelizzazione del cliente, o comunque di creare magia dietro al prodotto, guarda come sono romantica. Mi piace. Perché se no troppo tecnica, mi dite sempre. Sempre troppo tecnica. Beh, sicuramente è fondamentale, lo sappiamo, ormai è una realtà, infatti, spesso gli influencer diventano proprio un tema da trattare quando si parla di comunicazione e arrivano ovunque, sui giornali, in tv, non a caso, perché sono il fenomeno non recente, ma ormai di dieci anni fa. In realtà ci sono sempre stati influencer, però... All'improvviso è stata targettizzata la parola. Influencer, ah, portato in borsa. Se pensi, che ne so, dopo guerra, il giornalista che aveva un seguito alla fine era un'influencer. Sì, sì. Adesso, proprio grazie al fatto che tu puoi avere dei canali tuoi con cui comunicare direttamente con una persona, la tua capacità di influenzarla è esponenziale, non hai bisogno di un medium come poteva essere la tv, no? Sì. E' tutto ben diverso, anche che i politici diventano influencer e lo stesso vale per il vino. E' facilitato, no? Oggi. Pensavo, no? Che è sempre esistito influencer. Immagina i programmi di cucina degli anni 80-90, in cui avevi la nonna che appuntualmente ogni giorno ti faceva le zucchine alla scapece e tutti i prodotti così. Non so cosa è la scapece, poi me lo spieghi. Da campano non sai cosa è la scapece, vabbè ragazzi, tagliamo via. E quindi attaccandoci a tutta questa linea di pensiero, arriviamo al concetto di blog, di sito, di pagina Facebook, pagina Instagram, insomma tutti questi mezzi digitali dove oggi si comunica il vino, che è un po' come dire il parallelo di comunicare bene un packaging di un vino, no? Esatto. Un'etichetta. Quanto è importante oggi contestualizzare bene il sito, il blog, riuscire a rendere un'immagine, anche il layout, i colori, la scrittura, l'impostazione? Quanto oggi ha peso anche, no? Farlo per bene? Allora, ho avuto sempre peso, ma oggi ancora di più. Non a caso ci scrivono libri e c'è questo famoso nome un pochino strano che aleggia, che si chiama neuromarketing. Bellissimo. Molto bello. Ci scrivono, salutiamo il professore di storia della filosofia. E' fondamentale, ci sono un sacco di libri e scoprere, leggendo questi libri, come quello di Andrea Saletti, che è il più grande esperto italiano in questo settore italiano, che tra altro è uscito con un nuovo libro, se riusciamo a intervistarlo, sarebbe una figata. Spiega proprio quanto sia importante ogni singolo colore, niente è banale, niente è lasciato al caso, quali sono tutte le strategie che ci sono dietro. Ovviamente spesso si fa questo errore, cioè ovviamente ci sono problemi di budget, però spesso si dà moltissima importanza solo ai social media, dimenticando invece che, come dicevo, i canali proprietari, come per esempio una newsletter che rimane sempre tua perché la mail non muore mai, ce l'abbiamo dagli anni, da quando siamo nati e non la abbandoniamo, mentre magari Facebook ci annoia dopo un po'. Quindi la mail, questi sistemi per raggiungere direttamente una persona, averla sempre a contatto, come il telefono per esempio, sono i canali migliori per raggiungerle e quindi quello che volevo dire è che è fondamentale fare una comunicazione che sia omnidirezionale, cioè non fare solo Facebook e poi dimenticarsi che ci sono le newsletter, che c'è il blog, che le cose del blog possono essere utilissime perché restano lì per sempre, mentre il post di Facebook dopo cinque ore è sparito e non ti rimane più nella mente, mentre un post di un blog lo puoi far vivere e rivivere mille volte, quindi il consiglio è comunicazione omni-direzionale. Sì, no, pensavo anche, diciamo, due riferimenti, sia il fatto che i giornali, come nonostante oggi le news sono velocissime sul digitale, il giornale continua ad esserci perché rimane lì, rimane fisso, quindi lo stesso discorso da un social network che domani potrà non esserci, potrà variare, potrà cambiare e qualcosa che rimane lì ma di infinitum come un blog. Esatto, esatto. Che crea un po' il tuo diary, no? Sì, esatto, questo è fondamentale. E poi volevo fare riferimento al concept di colore che dicevi prima, infatti Facebook è blu, perché è blu? Perché è stato studiato che il blu crea una sorta di tranquillità nell'utente, quindi è come se fosse invogliato a stare su un social network che già visivamente, proprio a livello neuroscientifico ti crea una sorta di calma, di quiete, quindi insomma è tutto fatto. Tutto studiato. Tutto studiato. Anche io sono blu oggi, credibile. Anche io sono blu oggi. Siamo tutti e due blu. Mi sentite un po' calmi, stiamo parlando anche quieti oggi. Un po' blu, ti sentiamo un po' blu. Ok. Chiamo l'ospite intanto. Sì, Giuseppe ti stiamo chiamando, io nel frattempo ti faccio l'ultima domanda, ma è una domanda molto easy. Quanto è importante? Uh, c'è un bambino con il cosauro sacchiotto. Attenzione, abbiamo la chiamata in diretta. Hola. Eccolo. Buonasera. Ciao Giuseppe. Grazie. Eccolo. Che onore. Benvenuto da noi. Il piacere è enorme. Io vi volevo ringraziare, volevo ringraziare te e Ellie. Ebbè ci conosciamo dal tacco di te. Poi Nicola Palumbo, troppo un capo, io ti volevo fare i complimenti per il lick, perché sei fantastico. Veramente mi pareci a impazzire, come si diceva. Poi mi ha studiato bene, non sai cosa è la scapece. Non l'abbiamo pagato, non l'abbiamo pagato, possiamo dire questo. Ha detto come mai. Perché non sai cos'è la scapece, le zucchine? E cos'è la scapece? Spiegacelo tu che sei un esperto di food and beverage. La zucchina la scapece è un connubio di una zucchina, una pezza con aglio e menta. Oh, che sogno. Poi c'è lì la maestra dell'arte culinaria. Assolutamente. Ellie. Che ci abbiniamo, Giuseppe, una bollicina? Eh, per favore. Ma tu mi conosci troppo bene, perché ho le bollicine anche a colazione. Sono andata sul semplice, insomma, sul diretto. Senti, Giuseppe, grazie a te di essere venuto, insomma, in radio da noi, Radio Design, con questo format dedicato al vino. E ti presento velocemente magari ai nostri ascoltatori. Giuseppe, esposito in arte, Giuseppe Wine Experience. E già il nome è tutto un programma, perché con il tuo, con la tua pagina Instagram, che ad oggi conta 17.000 followers, correggimi se sbaglio, man mano che dico un po' di te. Sì, più o meno so quelli, sì. Racconti un po' le tue esperienze vissute nel mondo del vino. Esso Melier lavora in un grande, bellissimo ristorante. Grazie. E ad oggi ha aperto poi un blog, quindi man mano ti chiederemo informazioni sul blog. La tua esperienza nasce con il vino più o meno 15-16 anni. Sì, 15 anni. Alcolismo. Puro, allo stato bravo. Bravo. Tu mi hai detto che ti sei approcciato a questo mondo per la curiosità. è un po' come la meraviglia aristotelica, che è la causa del filosofare. Quindi questa curiosità ti ha guidato verso questo mondo del vino. Dai, raccontacelo a parole tue, parole napoletane, insomma. Sì, no, no, cercherò di parlare il più italiano possibile. Allora, no, io, come hai detto tu, ho cominciato a 15 anni. Diciamo che ho cominciato a lavorare nelle strutture recettive alberiere un po' per tutto il sud Italia. è stata qualche esperienza all'estero. All'inizio, lo sai, a 15 anni, io che poi vengo da un percorso didattico totalmente diverso da quello turistico. Io ho contribuito alla maturità classica nel 2005, un bel po' di anni fa. E quindi si cominciò a lavorare, ma per, diciamo, sopperire a delle esigenze economiche. Sì. Poi tutto è cominciato da lì. Si è appassionati, il servizio di sala, il mio percorso nasce in sala. Quindi è un legame non stretto col vino, diciamo. Ho fatto un piccolo passaggio dal punto di vista professionale al bar. Sì. E poi, diciamo che da lì, con la scopetta del magico alcol, poi è cominciata la passione, un po' da quelle che sono state le bevute. Quindi è stata un'unione tra passione e curiosità, anche nel vedere gli altri bere, nel capire che cosa c'era di tutto quel codere. Hai capito? Quindi è stato un po' questo. Poi io prima sentivo parlare della sicurezza dell'influencer. Sì. Anche loro sono stati gli influencer per me. Magari non veniva utilizzato questo termine. Sì. Ma anche loro mi hanno influenzato in quello che poi sarebbe stato il mio percorso. Ma assolutamente. Ma infatti perciò cercavo di porre l'attenzione sul fatto che oggi dire influencer non è per forza una cosa negativa. Perché se viene fatto per bene, se si comunica bene, escono persone come te, ecco, i 15 anni cominciano a bere. No, ma il problema è un altro. Il problema è il come. Esatto. Poi magari ne parliamo dopo. Quella è la problematica. Sì, sì. Comunque poi ci sono stati i primi corsi. Il terzo dell'OI, sono seguito un po' di tempo fa, abbastanza giovane. Io comunque ho avuto delle persone di riferimento. Sì. Anche il più grande influencer, anche se parliamo di influencer, il più grande influencer, anche se non è mai stato, ne è finito così, per me è stato Veronetti. Ma stiamo parlando di livelli spaziali. Una persona a cui non posso nemmeno dire di ispirarmi, perché dei modelli a cui non si può ispirare nessuno. Certo. Gino si nasce. Quindi diciamo che però nel mio piccolo ho cercato di creare, non mi ricordo, 4-5 anni fa, questa pagina Instagram che un po' è nata come un profilo mio privato. Infatti per scavare le prime foto c'è la foto del mio cagnolino. Un po' come tutti i profili, insomma, a meno quelli là che sono nati qualche anno fa, sono tutti un po' impostati su cagnolini, gite, mare, poi all'improvviso vino, una marea di vino. Senti, quindi... Sì, diciamo sì. Tu l'hai aperto, mi raccontavi, tra il 2014 e il 2015. E' iniziato come il profilo personale di Giuseppe Esposito, per poi mutare, cambiare e progredire. Però come Giuseppe Wine Experience, oggi qual è l'obiettivo che ti sei posto per questo profilo? Perché alla fine posti quotidianamente dei contenuti sul vino, interagisci con il popolo di Instagram, creando appunto una comunicazione digitale continua. Quindi qual è effettivamente il tuo obiettivo ad oggi? Allora, il mio obiettivo, ti dico la verità, ad oggi non ne ho uno ben preciso. Ti spiego, perché anche dal punto di vista caratteriale sono fatto così. Viva la giornata. Quello che però ho sempre voluto dare, tu lo sai perché è stata una delle prime persone che mi ha seguito, è un'esperienza emozionale. Quello che ho sempre criticato al social, ma non al social in sé per sé, un po' come quando all'inizio si facevano le critiche al social Facebook, che poi sono andata a scemare perché il fenomeno Instagram è aumentato. L'esperienza che ho cercato di creare è stata emozionale perché il didattico e il tecnico a volte viene raccontato dal basso della mia esperienza, lo dico sempre, in modo errato. Sì. In modo errato per due motivi, perché non c'è emozione. Ok, l'emozione che diceva anche prima Nicola, no? Un contenuto emozionale. Ma sì, come diceva prima Nicola, il contenuto emozionale non c'è. Non c'è una linea. Io posso pure non emozionare, io lo dico sempre, ci si sa pure chi magari non prova nulla nel seguire, però io ho provato a creare un'identità ben precisa. Sì. Altrimenti seguire me o seguire Tannico o seguire un'altra cosa sarebbe stata la stessa unica cosa. L'importante è che come quando io comunico, se tu per esempio facci una domanda, se tu vedi un post e ti ricorda un mio post, tu pensi a me. Sì. Se tu immagini il mio livello di scrittura, il mio tipo di scrittura e un altro, magari mi puoi anche confondere, il fatto che io possa essere riconosciuto, a me questo mi fa piacere. C'hai capito? È una personalizzazione del tuo modo di comunicare su Instagram in pratica. Personalmente sì, ma all'inizio è nato come la voglia di dare voce alle piccole aziende, perché le piccole aziende a volte non hanno nemmeno la possibilità, ci sono aziende come alcune in Campania che producono 8-9 mila bottiglie, fanno numeri modestistili, a livello di vini eccezionali, ma non hanno nemmeno la pagina Facebook, non nemmeno la pagina Instagram. E a volte, io ho visto che ci sono, nei post precedenti ho parlato spesso di vini no brand, anche se i vini no brand non esistono, perché tutto ciò che si vede è un brand, tutto ciò che si vede è un brand. Tutto ciò che è sul mercato è brandizzato. È sul mercato, però ci sono delle aziende che pur avendo dei prodotti eccezionali, vengono schiacciati da quello che è il potere economico delle grandi aziende, che oltre a non essere più legate al territorio, ma dalla Sicilia alla Val d'Aosta, pur non essendo, riescono a comunque, grazie a quello che è il brand, che negli anni, magari penso alle grandi aziende della Sicilia, negli anni 80, negli anni 90 hanno massificato tutto e adesso vanno avanti per Inezia. Ci sono dei vignaioli che non conosce nessuno e il mio primo intento, uno dei miei obiettivi è stato questo, è stato quello di dare voce alle piccole aziende. La particolarità sta nel fatto che, a mio modesto parere, il livello comunicativo sulla media è di basso, veramente di basso livello. Ci sono tantissime persone che nel mondo vino contano, ma contano veramente e hanno 500-600 follower. Quindi diciamo che è anche inversamente proporzionale, questo poi è un fenomeno da valutare, perché io se penso ad Armando Castagno, uno dei più grandi conosciuti di Borgogna, prende 30 like a foto, però è una persona che nel mondo vino conta, che ha fatto dell'indipendenza comunicativa una bandiera. Quindi questo è quello che a volte mi dico, sai, ma perché ho voluto costruire un blog? Sì, infatti quello che ti volevo chiedere, da dove nasce la voglia, la volontà di creare il blog che si chiama Vinocratici? Però prima di arrivare io ringrazierei Titti, perché alla fine siamo qui perché Titti è stata con lei un pochino che ti ha spinto a buttarti su questo mondo del blog. Quindi ciao Titti. Quindi come nasce questa voglia di creare un blog che si collega alla tua volontà di comunicare anche dei piccoli brand in un mercato non concorrenziale, quindi non c'è l'ottimo paretiano, senti come sono tecnico. Quindi ecco, parlaci un pochino del tuo blog, di come l'hai impostato a livello comunicativo, cosa avete scelto come i colori, i contenuti, come vengono organizzati. Se avete un calendario per pubblicare, prima ti volevo chiedere quanto è importante avere un calendario dei prodotti comunicati. Eh vabbè, il calendario ci sarebbe a fare un discorso, però varia sempre da cliente a cliente, quindi... La domanda è difficilissima, insomma. No, è che purtroppo nella comunicazione se non hai, cioè devi, ogni volta puoi dare dei suggerimenti generici, ma poi ogni cliente ha le sue esigenze, cioè metti magari un'azienda che ha delle particolarità, allora nella rubrica che scegli per il calendario editoriale, dici che ogni mercoledì veniamo fuori con la fattoria didattica, per dirti, no? Però magari quelli producono, qualcuno produce solo vino, allora devi cambiare, variare in base a una specificità. Magari hanno un enologo che è famosissimo, allora decidi di spingere molto quel tipo di contenuto, quindi cambia tutto in base al tipo di cliente. Invece per un blog, a tuo avviso, quanto dovrebbe, quanto o come dovrebbe produrre? Ma anche qui cambia sempre il discorso, perché se tu decidi di fare un blog che è molto verticale, cioè che parla di un tema molto specifico, o decidi come fanno alcuni blogger di fare dei contenuti che sono molto, diciamo, elaborati. Anche per dirti un articolo di un blog può rispondere a una domanda semplice come come si posta da browser su Instagram, se ho cito i miei casi. Era zulla. Però potresti anche fare un articolo di un blog che è come gestire un account Instagram, allora a quel punto puoi scrivere un post di un blog che sia a lungo, boh, 7.000, 8.000 parole, quindi anche qui in base a che tipo di contenuto realizzi la risposta varia, quindi può essere un articolo al mese che ti porta a un traffico pazzesco perché è un contenuto di estremo valore, o possono essere articoli molto più semplici dove parcellizzi un macro contenuto, allora a quel punto puoi uscire una volta anche o due volte a settimana perché l'impiego è minore. Invece di Giuseppe, voi come l'avete gestita questa del blog? Anche il nome, Minocratici, è carinissimo, vai, lasciamo la parola. Non sai cosa abbiamo a fare, diciamo che sarebbe dovuto uscire a gennaio il blog, però sai Pitti fa l'avvocato, io sono una ristorazione, non sempre è stato facile e ritagliarsi del tempo e conciliare i tempi di tutte e due le persone. La cosa bella è carinissima che Pitti ci siamo conosciuti, abbiamo parlato molto su Instagram, lei mi chiese informazioni su di un vino e lei non ci fa trovare a Milano e da lì lei comunque aveva dei assestati di stima per me ed era molto curiosa, infatti si parlava spesso, infatti la prima volta che il mio contatto era l'una e mezza di notte, ma chi è? E poi sai, da lì cosa nasce cosa, sai mi piaceva scrivere un blog, l'ho sempre voluto anche perché lei è all'inizio con l'ice, quindi sta studiando da poco, mi sono molto preparata, letteralmente molto brava. In Italia ci siamo conosciuti, siamo andati a pranzo e abbiamo impostato un po' il tutto. Diciamo che i vinografici, l'abbiamo scelto come nome anche per dare il concetto di vinograficia, l'allargare il vino, però qua si entra in un discorso abbastanza particolare. Prima di tutto noi ci siamo a dare delle prerogative, parlare di piccole aziende, anche se comunque c'è stato magari qualche post su aziende un po' più grandi, ma perché hanno fatto parte di un percorso personale mio, per esempio, quando sono stato da Quarciabella in Toscana, che non è un'azienda piccolissima, per me è stato uno dei passi più belli, è una delle viste più belle, però sai, comunque il primo input è stato quello di voler dare voce ai produttori legati al territorio, che abbiano comunque un'identità, una filosofia ben precisa, perché dietro questo grandissimo posare, comunicare, questa grande bolla che è Instagram, perché è una bolla da un milione di colori, io penso che il blog sia il più grande filtro, il filtro più vero per capire chi veramente segue, chi veramente lo fa senza avere un tornaconto, perché non dimentichiamo che il profilo Instagram viene utilizzato anche spesso per avere dei tornaconti, ci sono dei gruppi di engagement, ci sono dei gruppi dove uno posta e tutti gli altri commentano a convenienza, diventa un dovere, diventa un macello, ti dico che fare un post là diventa difficoltoso, invece con il blog abbiamo voluto creare un'area tutta nostra, indipendente, dove abbiamo inserito anche tutti i percorsi emozionali legati al vino, la ristorazione anche se ci sono magari, c'è una sezione di enoteca e no food, magari spesso colleghiamo il vino al ristorante in cui lo abbiamo bevuto, recensendolo, c'è una sezione dedicata ai viaggi, viaggi italiani, viaggi in Francia, viaggi in tutto il resto del mondo, c'è una sezione che io ho fortemente voluto, che è una sezione no art, dove ho inserito 5-6 poesie in tutti quelli che ho scritto attualmente, che riguardano un po' il mondo del vino, alcuni percorsi personali miei, anche intimi, diciamo che quello è lo spazio più intimo. La cosa bella è stata creare un layout particolare, se tu vai sui vinogratici.it, un rischio è molto semplice. Sì, sì, ho notato. C'è il nostro logo che si vede sullo sfarzo, sul gioco, sul gioriale, sul giovanile, che rappresenta a me e tutti vicino ad una botte con sui scritti vinogratici. Il layout è un basico, molto semplice, perché ho voluto dar poca importanza all'estetica, città, anche se conta molto, ma è una città mia che faccio spesso, anche nel post, anche nei post su Instagram. C'è gente che dice, ma tu non ti fai vedere mai? A me non interessa far vedere meglio. Beh, avete creato qualcosa che ha un diretto contatto già con il pubblico, il fatto che ci sono due persone vicino ad una botte dà immediatamente l'idea visiva che dietro all'articolo scritto sul blog ci siano due persone, un uomo e una donna vicino al mondo del vino. Quindi ecco. Certo. Nicola, vuoi dirci qualcosa? No, no, sto dicendo solo mancano tre minuti. Ah, dai, vai Giuseppe, vai a tre minuti, raccontaci, raccontaci. C'è stata, diciamo, l'intenzione di fare un uso, diciamo, attento, integro ed indimendente. Soprattutto la voglia di non parlare solo di aspetti tecnici, ma di parlare di contatti con chi il vino lo fa. Perché spesse volte io parlo con i PR delle aziende, aziende che decidono di inviare cartoni e di far postare gente. Per me che dell'indipendenza dell'opinione per me forse è una cosa che non andrebbe mai fatta. Perché io ho sempre dato importanza a quella che è la vita in cantina, perché è l'unico metodo, l'unico modo per sapere una persona, un vignaiolo, come significa. Però se magari geograficamente sono distanti, in realtà vuole essere comunicata da un influencer marketing, adesso siamo un po' più tecnici e meno emozionali, comunque può essere un buon metodo. Adesso io faccio un po' tecnici. Assolutamente. Può anche essere un buon metodo, però sai che dietro ci sono degli interessi. e quando tu magari vai a… tu individui 10 influencer, mandi il vino a 10 persone, tu ti rendi conto del fatto che comunque dietro in una settimana, se quelle 10 persone possano 10 vini uguali, tu un'idea te la fai. Sì. Un'idea te la fai. Quindi magari il contatto con il vignaiolo non l'hai avuto, tu non hai avuto quel trasporto emozionale che io magari ho avuto quando sono stato al Valle Reale o quando sono stato in Sicilia, per dire, no? Sì, sì. Quindi diciamo che… e questo a volte sai, tu dici mamma, come sei tritico oggi? Perché a me a volte è proprio il ruolo dell'influencer che mi preoccupa. perché secondo me il grande valore è sempre quello di invitarmi in vigna, perché parliamoci chiaro, per quanto uno possa… io vedo tantissimi ragazzi che sono bravissimi, c'è Cippo, c'è c'è gente che veramente si impegna dietro e comunque viaggia. Comunque è una scelta, il vino è piaggio, il vino è scoperta, quindi cercheremo di fare questo dai, io tenderò a dar valore alla sacralità del vino, più che altro. Sì. Sono tre gli elementi, la sacralità del vino, l'indipendenza della comunicazione e l'obiettività del giudizio. Beh, quindi alla fine ricollegandoci a Nicola una comunicazione debba essere emozionale, a prescindere. Sì, io ci provo, ci provo, ci provo perché è l'unico modo in cui provo a farlo, in cui penso di saperlo fare. Bene, ti ringraziamo Giuseppe, scusaci ma qui il tempo è tirannissimo. Dobbiamo chiudere. Nicola, mi aspetto un asporto di zucchine alla scavice qua a Napoli. Sono fatto. Bel panel. Allora, 20 secondi, ricordiamo che questo podcast lo potete sentire ovunque, in tutti i canali di piattaforme, Spreaker, Spotify, iTunes, in video su Facebook e YouTube. Intanto chiudiamo il podcast e possiamo andare per un altro minutino avanti. e alla prossima. Ok, ok, ciao, grazie. Grazie Giuseppe, grazie. È stato un piacere, grazie mille. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ok. 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 Ok.